Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Dolore e sgomento per la morte della giovane mamma avvenuta domenica nella casa del compagno i carabinieri escludono l'omicidio mentre a giorni verrà eseguita l'autopsia Violenta l'ex compagna e poi fugge in Australia preso dopo sette anni di latidanti la delibera della discordia seri deluso dal comportamento del presidente della regione Ceriscioli e del consigliere Minardi dovevano tenermi informato mi fanno torno a vincere e straccia in casa il San Nicolò il cross di Davide c'è Gucci di terza e gol Nicolò Gucci Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia benvenuti al nostro telegiornale Non è stata ancora eseguita l'autopsia sul corpo della giovane mamma sulla donna ritrovata senza vita nell'abitazione del compagno al Lido di Fano i carabinieri hanno interrogato per ore a lungo l'uomo esclusa l'ipotesi che si sia trattato dunque di un omicidio Tragico risveglio domenica mattina al porto di Fano dove una giovane mamma Eva Minardi di 40 anni ha deciso di togliersi la vita a casa del compagno in via dello squero impiccandosi all'asta della doccia con la cintura di un accappatoio la donna che lascia una bimba di appena 7 anni abitava in un appartamento nel quartiere di Bellocchi dove lavorava come barista a ritrovare il suo corpo intorno alle 10 è stato il fidanzato un marinaio di 54 anni che si è accorto della tragedia solo al risveglio ma la morte della donna risalirebbe a diverse ore prima sotto shock ha chiamato il 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Fano comandati dal capitano Alfonso Falcucci che per far chiarezza sulla vicenda hanno condotto l'uomo in caserma dove è stato interrogato pare che il rapporto della coppia fosse logorato da tempo tant'è che i vicini di casa hanno raccontato di frequenti litigi tra i due e le loro testimonianze in un primo momento avevano fatto pensare a un omicidio un'ipotesi scartata fin da subito dalle forze dell'ordine infatti da una prima ricognizione cadaverica sono stati esclusi segni di violenza sul corpo della povera vittima e la versione dell'uomo è compatibile con la ricostruzione dei militari e con quello che hanno rinvenuto nella stanza da bagno il magistrato di turno ha poi dato il via libera per il trasferimento della salma all'ubitorio dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia un incarico che ancora ad oggi non è stato affidato nel frattempo come da prassi l'abitazione è stata apposta sotto sequestro fino al risultato del referto autoptico un anziano di 90 anni è stato ritrovato morto con gli arti inferiori ustionati nella sua abitazione in località Pontevecchio nel comune di Urbagna a ritrovare il corpo dell'uomo sono stati vigili del fuoco di Pesaro allertati dal badante che come ogni giorno aveva portato da mangiare al pensionato secondo una prima ricostruzione pare che sia andato a fuoco un materasso dove riposava e che era posizionato probabilmente troppo vicino ad una stufa a legna accesa i carboni ardenti avrebbero provocato un incendio e le esalazioni di fumo potrebbero aver causato la morte dell'anziano in poco tempo i pompieri intervenuti insieme ai carabinieri di Sant'Angelo invaduio e al 118 hanno messo in sicurezza l'abitazione che non ha riportato danni strutturali i carabinieri di Mondolfo hanno arrestato un 31enne del posto che era latitante da ben sette anni nel 2009 infatti dopo aver sequestrato e violentato la sua ex compagna era scappato in Australia poi poco tempo fa i militari hanno saputo che l'uomo poteva essere rientrato in patria così hanno effettuato dei lunghi servizi di perlustrazione nella casa dove vivono la madre e il fratello una volta avvistato all'interno dell'abitazione è scattato ed è stato chiesto il supporto dei carabinieri di Marotte di San Costanzo e Mondavio ed è scattata l'irruzione è stata fatta l'irruzione il 31enne è stato subito arrestato per violenza sessuale e sequestro di persone e condotto in carcere il giudice in primo grado aveva inflitto all'uomo una condanna di 5 anni e 3 mesi di carcere confermata dal giudice in appello ancora furti ai danni di esercizi commerciali in una tabaccheria dell'interquartieri di Pesaro la notte scorsa è tornata a colpire la banda del buco forse la stessa che ha messo a segno anche altri colpi nei giorni scorsi in diversi distributori di benzina e bar tabacchi i malviventi che sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza hanno fatto irruzione passando dalla pasticceria a Tigua al locale e facendo due buchi nel muro una volta all'interno hanno fatto razzia di sigarette gratte e vinci per un valore di circa 10.000 euro indaga la polizia e cambiamo argomento torniamo a parlare del nuovo ospedale quello che dovrebbe servire le due città la seconda e la terza città delle Marche vale a dire Pesaro e Fano dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla delibera regionale oggi è intervenuto il sindaco di Fano Massimo Seri che nei giorni scorsi lo ricorderete era all'estero a Bruxelles e oggi il sindaco se la prende sia con il presidente della regione Ceriscioli che con Minardi sentite ho manifestato il mio disappunto mi sono anche arrabbiato perché non è il metodo di lavorare così il sindaco di Fano Massimo Seri ha commentato le reazioni della politica dopo che la giunta Ceriscioli ha approvato il 22 febbraio scorso una delibera sul nuovo ospedale resa nota poi soltanto la scorsa settimana dai consiglieri del Movimento 5 Stelle il provvedimento che indicherebbe Fosso Segiore come scelta definitiva per il sito della nuova struttura è stato tenuto nascosto per una decina di giorni scatenando polemiche da tutti i fronti e la richiesta di dimissioni di Seri e del presidente Ceriscioli il primo cittadino ne è venuto a conoscenza proprio mentre era a Bruxelles in cerca di finanziamenti una notizia che lo ha lasciato spiazzato il fatto che non abbiano avvertito preventivamente non abbiano informato le due città principali Pesaro e Fano non è un metodo che mi è piaciuto perché poi quando si fanno queste cose a maggior ragione se sono superficiali andavano annunciate preventivamente perché poi sappiamo che c'è un dibattito che si scatena rischiamo di creare sempre ulteriore confusione quindi questa va condannata va criticata come metodo lavorativo trattandosi una questione regionale anche i nostri consigli regionali devono essere coinvolti fino in fondo e loro stessi non devono accettare che ci siano certi comportamenti le critiche strumentali ha ribadito Seri non fanno bene la città e le nostre posizioni sono sempre state chiare ha detto riferendosi al nuovo nosocomio che ha sempre visto chiaruccia al centro dell'attenzione della politica fanese ora vuole un dialogo e un confronto con la gente per questo hanno organizzato una serie di incontri insieme alla cittadinanza a breve verranno comunicate le date sto dimostrando che grazie a questo sindaco le questioni si stanno affrontando con pari dignità in passato queste cose non si sarebbero verificate e a chi parla della debolezza rispondo che anzi per fortuna ci sono io perché ci fosse stato qualche altro sindaco ho cominciato da quelli che chiedono le dimissioni oggi certe queste non si sarebbero neanche affrontate chi fa parte di una compagine che governa usa altri strumenti per arrivare agli obiettivi poi se non ci si riesce ci sono altri strumenti insieme sempre ai cittadini questa sarà la mia posizione determinata come sempre i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti oggi pomeriggio intorno alle 14.30 in via Flaminia per soccorrere un camionista uscito dalla sede stradale siamo in località Cucurano il conducente un uomo residente a Fano ha perso il controllo del mezzo finendo nel canale di scolo delle acque piovane rischiando di ribaltarsi con il mezzo pesante per fortuna solo un grande spavento per l'uomo che ne è uscito il leso sul posto dei vigili urbani per dirigere il traffico durante le operazioni di recupero e adesso cambiamo argomento e parliamo di Sant'Orso Sant'Orso che diventerà il primo quartiere a misura di bambino lo ha annunciato questa mattina l'amministrazione comunale fanese che ha presentato un'iniziativa che coinvolgerà scuole associazioni e anche i residenti ancora una volta i bambini saranno i protagonisti della loro città e la potranno migliorare insieme all'amministrazione comunale di Fano per renderla più accessibile accogliente e sicura il primo quartiere che sarà il centro dell'attenzione dei più piccoli sarà quello di Sant'Orso grazie ad un'iniziativa che coinvolge tre diversi tavoli di lavoro l'avvio della fase progettuale è stato annunciato questa mattina nella sala della concordia del comune di Fano dal sindaco Seri che si è tenuto per sé la delega alla città dei bambini e dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin erano presenti la dirigente scolastica del Polo Sant'Orso la direttrice del laboratorio città dei bambini e l'architetto Paola Stolfa noi avevamo detto che avremmo voluto rilanciare questo progetto che è stato un punto di riferimento della nostra città che ha dato lustro alla città poi purtroppo per scelte adesso non entro nel merito questa cosa è un po' scemata in questo anno e mezzo abbiamo cercato di recuperare un ruolo di Fano ci stiamo riuscendo stiamo ritornando protagonisti allora in questo caso specifico presentiamo un progetto concreto un quartiere a misura di bambino abbiamo scelto come progetto pilota il quartiere di Sant'Orso dove attraverso una fase partecipativa partendo dai bambini ma coinvolgendo anche gli adulti tutto il movimento l'associazionismo ripensiamo all'organizzazione del quartiere di Sant'Orso come noi diciamo se uno spazio a misura di bambino significa a misura di tutti si tratta di un progetto pluriennale che verrà condiviso con le scuole le associazioni i residenti e i commercianti e potrebbe riguardare la viabilità la sicurezza di alcuni percorsi la manutenzione delle aree verdi della segnaletica stradale delle asfaltature ma anche una maggiore cura per i beni pubblici questo per i bambini è un progetto educativo cioè la valenza educativa non va sottovalutata i bambini non sono abituati a leggere la città a sentire la città come propria e questo progetto ha l'obiettivo anche di rifondare quel senso di appartenenza ai luoghi ai quartieri in cui i bambini sono abituati a essere trasportati sempre in automobile o a fare le proprie attività in luoghi dedicati nei luoghi chiusi a scuola in palestra in piscina e così via interventi che verranno condivisi e approvati saranno finanziati con il bilancio ordinario di quest'anno e con appositi investimenti nel 2017 grande successo di pubblico per la presentazione della fabbrica del carnevale l'innovazione e il coinvolgimento della città sono le linee guida di Italo Rota uno degli architetti più apprezzati nel mondo che sabato scorso ha presentato a 200 fanesi il progetto di ristrutturazione del complesso Sant'Arcangelo un palazzo che potrebbe diventare una vera e propria fabbrica del carnevale cioè un grande contenitore di tutto ciò che rappresenta la creatività e il folklore fanese comprenderà ad esempio dei laboratori dedicati sia al jazz che alla manifestazione più antica e dolce d'Italia e per quanto riguarda il museo del carnevale sarà un luogo dedicato alla memoria collettiva e quindi chiunque potrà contribuire portando ad esempio vecchie fotografie manifesti oggetti e tutto ciò che possa far ricordare e fornire l'espressione della collettività tra le idee che l'architetto milanese ha lanciato ai fanesi c'è anche quella a tre zeri e cioè zero euro spesi per l'energia a zero quelli per la comunicazione e zero gli euro per l'uso dell'informatica attuando nuovi sistemi imprenditoriali che consentano di creare nuovi posti di lavoro poi diverse idee proposte sono state raccolte anche durante l'incontro che è avvenuto in una gremita salaverdi del teatro della fortuna ma il designer ha già fissato un ulteriore appuntamento previsto per sabato 19 marzo l'idea di scegliere questo edificio è anche perché è vicino alla mediateca e quindi di creare di estendere una cosa che già funziona molto bene e creare sempre di più una massa critica per i giovani e i meno giovani ma che comunque introduca il mondo contemporaneo all'interno delle mura della città nello stesso tempo che diventi un laboratorio in cui i giovani possono iniziarsi a nuovi mestieri e soprattutto le nuove tecnologie il percorso partecipativo è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale che in collaborazione con la vicina Pesaro partecipa a un bando della regione Marche che mette a disposizione dei capoluoghi 20 milioni di euro per tre progetti la quota che dovrebbe spettare i due comuni si aggira sui 6-7 milioni di euro di questi circa 2 milioni e 400 mila euro potrebbero spettare a Fano una cifra consistente che permetterebbe di dare il via ai lavori per realizzare il progetto presentato da Rota e che ha un costo complessivo di 3 milioni di euro la somma restante sarà finanziata dal comune di Fano ora quindi non si deve far altro che attendere l'esito del bando regionale che scadrà il 31 marzo prossimo e adesso passiamo al calcio di Serie D domenica l'Alma Juventus Fano ha vinto in casa contro il San Nicolò Teramo per 3-0 a segno Sivilla Gucci Ambrosini la squadra Granata si è quindi vendicata dopo il pesante 5-1 subito all'andata e come sempre adesso guardiamo i risultati e le classifiche e poi le pagelle di Catalani cominciamo con i risultati Alma Juventus Fano San Nicolò 3-0 Amiternina 1 Agnonese 3 Isernia Iesina 0-1 Folgore Veregra Recanatese 2-3 Giulianova San Benedettese 0-1 Vis Pesaro Avezzano 4-2 Monticelli Fermana 0-3 Matelica Chieti 3-0 Campobasso Castelfidardo 0-0 Il prossimo turno vede i Granate impegnati a Fermo contro la Fermana La classifica vede in testa sempre la San Benedettese con 65 punti seguita dalla Matelica con 54 e dal Fano 50 punti In coda invece Fanalino Giulianova con 22 punti E adesso andiamo a vedere le pagelle di questa 27esima giornata Marco Antonini 7 Veruschi 6,5 Bartolini 7 Lunardini 5 Nodari 7 De Iori 6,5 Sivilla 7 Gregorini 6 Gucci 7,5 Borrelli 8 Marianeschi 6,5 Ambrosini 6,5 Marconi e Favo senza valutazione e Alessandrini 6,5 Ok il telegiornale è finito tra poco le previsioni del tempo e poi la partita del Fano grazie per averci seguito arrivederci Sivilla Sivilla 8,5 Sivilla 8,5 6,5 Sivilla 8,5 Sivilla 8,5